questa è la prova decisiva vai forza nera ma come fai? sono David Copperfield adesso gioca a nero no! no! mamma! oggi siamo qui per rendere omaggio alla vita di Marianna Joe non è una cura andarsene da Chicago se restiamo in quella casa rischiamo di impazzire sarà bello avere una stanza tutta mia dovete fare molta attenzione ci vuole un attimo a perdersi in questi vicoletti sono un vero e proprio labirinto chi vuole difendere l'onore degli italiani? questa idea mi piace più dell'altra sì è veramente molto bella tua figlia Kelly io ero nella macchina quando la mamma è morta è stata colpa mia no Mary è in pericolo Mary! voglio stare con te ecco grazie a tutti! Grazie per la visione!